Conta sul risultato, ma se si gioca bene le possibilità di vincere crescono, quindi sono due cose che vanno di pari passo. Poi se fallirà con quelle che sono le sue scelte, verrà allontanato. La partita è stata orribile da tutti i punti di vista, è proprio inguardabile per un appassionato di caldo. Dai, Angolo! Che gol che ha fatto! Che gol che ha andato a fare! Ci sono rimasto molto male, che i minuti sono passati e quel cambio di marcia non è mai avvenuto. Anche un Malesani... E' quello si è ritirato a fare... Quindi però, scusate, voi stiate già ragionando da cambio all'allenatore? No, stiamo mettendo un po' di pepe negli ultimi minuti finali per accendere un po' la trasmissione. E' un po' di brio, dai! E' un po' magari già lavoriamo sulla prossima. Dopo ce la vediamo sui social con quelli che ci contattano, avete detto che... Caro Nicola, quando una squadra non ha risultati, chi paga? Non paga signore, non paga fogli, non paga tu, paga l'allenatore. Per fortuna, eh! Certo! Oh, sarei anche contento di pagare, vuol dire che mi hanno già dato degli stipendi all'allenatore. Non stai tutto il mondo, eh!